un cordiale saluto buongiorno e ben ritrovati a tutti e scusate i quattro minuti di ritardo cominciamo dal santo del giorno il santo di oggi lo vediamo subito è la cattedra di san pietro apostolo il sole sorto alle 6 58 tramonterà le 17 45 allora il tempo oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso con precipitazioni nell'entroterra domani invece ancora cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti nelle zone interne avremo una settimana caratterizzata da tempo sostanzialmente stabile allora cominciamo a dare i nostri quotidiani abbiamo il resto del carlino come sempre il corredo adriatico del messaggero allora dalla pagina di pesaro comune le spese boom del 2015 volano straordinari e carta igienica si è risparmiato in convegne molti cittadini pagano le tasse non dovute io mi limito a prendere atto delle richieste di pagamento dei vari uffici quanto ha speso il comune di pesaro nel 2015 c'è tutta una serie di ci sono tutta una serie di dati 349 mila 445 euro l'anno prima poi nel 2015 molti meno 272 mila un risparmio circa di 80 mila euro sono le spese boom per lavori extra lavoro extra gli straordinari pagati nel 2015 eccetera eccetera li potrete leggere tutti nel giornale di questa mattina poi si parla della seconda edizione di mondo cane è una edizione fortunatissima un successo oltre le aspettative per questa seconda edizione dell'expo che è organizzato da antonella zaccarelli alla fiera di pesaro in questo ultimo fine settimana dice la zaccarelli è andato tutto molto bene molto soddisfatta e si punta già al 2017 la terza edizione vedete tra i tanti personaggi anche la carlucci poi ancora dal dalle pagine del carlino le colline sono in fiore non è il titolo di una canzone ma è l'articolo che riguarda questo caldo anticipato rispetto al calendario cui siamo abituati da secoli le colline sono in fiore febbraio come aprile ma in arrivo la sciabolata che è quella diciamo del freddo e che poi causerà i problemi soprattutto per per tutte quelle situazioni in cui alberi piante che sono già fiorite ieri 16 gradi all'ombra da venerdì però si cambia la prima decade del mese è stata la più calda di sempre con 9,4 gradi di media contro i 9,3 del 2014 e poi le temperature che sono quelle appunto dicevamo primaverili a febbraio hanno fatto arrivare con oltre 30 giorni di anticipo le primizie sui banchi dei negozi e sui supermercati come le fragole e gli asparagi questo lo segnala la col diretti adesso invece la pagina di senigallia del corriere adriatico dove c'è la cronaca in apertura ride in casa di un imprenditore portati via soldi e gioielli fermati su un'auto 4 rom subito allontanati sotto invece sesso nel canneto siamo lungo il fiume cesano gli rubano il marsupio un nonnino si intrettiene con un giovane poi si accorge del furto di denaro documenti e chiavi ed è costretto a fare denuncia l'altra pagina del corriere da pesaro niente parco pubblico a santa veneranda società autostrade blocca il progetto di via del rio insorge il comitato che convoca l'assessore belloni la pagina invece l'altra pagina di pesaro difenderò il mio rossini fino in fondo il regista ettore florio racconta la lunga storia del suo film tra presunti plagi e smemorata indifferenza la pagina di fano invece art bonus 22 mila euro dalle donazioni i fanesi si scoprono sensibili alla conservazione dei beni e delle opere d'arte della loro città il progetto è stato considerato tra le quattro migliori esperienze dal ministero della cultura la pagina di pesaro invece del messaggero apre con le telecamere di sorveglianza sparse per la città meno privacy e più sicurezza immagini subito visibili per aiutare le forze dell'ordine la proposta del sindaco ricci in assemblea per contrastare i furti nelle case a monte cerignone si ricorda umberto eco il sindaco dice potremo intitolargli la biblioteca ma prima ci confronteremo con la moglie domani intanto sono in programma i funerali a milano presente anche una delegazione del comune e gli amici di sempre poi spiagge pressing sulla regione siamo sempre a pesaro la stagione che verrà i bagnini sollevano la questione dell'erosione l'altra pagina del messaggero oggi ci sono gli inserti sportivi telecamere video subito visibili dicevamo ci sarà meno privacy ma la privacy è soltanto una più illusione non c'è nessuna privacy siamo tracciati da soprattutto dai telefonini quindi non illudiamoci che una telecamera in più ci tolga la privacy siamo hanno le mappe avendo un telefonino di tutto ciò che facciamo 24 ore su 24 persino i percorsi le vie che facciamo le soste quanto tempo stiamo fermi in un posto quindi la privacy è una illusione belle buona comunque i rome invece sono tornati in via dell'acquedotto a pesaro i 5 stelle basta con le ghettizzazioni non accettabili degli sgomberi coatti che non prevedono delle soluzioni alternative poi sotto altre notizie che troverete sulla pagina di pesaro e fano pesaro e provincia del messaggero siamo a pagina 27 pressing sulla regione per le spiagge si intensificano gli incontri tra amministrazione comunale e concessionaria di spiaggia in vista della prossima stagione siamo sempre a pesaro sul tavolo i problemi legati all'erosione e del ripascimento si temono ritardi ma anche una diminuzione delle risorse da fano premiate a teatro le foto più belle del carnevale questa sera e domani sera invece la compagnia il guitto torna sul palco del cinema teatro politeama chiudiamo con le due pagine di sport fano il fano che vince 1 a 0 in casa contro la iesina fano ripartenza con guci granata col tridente faticano contro una iesina ben disposta poi sbloccano e gestiscono la partita questa sera alle 20 e 45 20 e 50 circa dopo il telegiornale invece la vispeso in casa vince 1 a 0 con il san nicolò primo tempo di sofferenza decisivi i cambi nella ripresa rucci e costantino confezionano il gol e con il calcio chiudiamo qui la nostra segna stampa grazie per averci seguito ci rivediamo domani come sempre alle 7 e 30 arrivederci a presto a presto